Scacco al narcotraffico tra Albania e Puglia. La DIA di Bari ha eseguito 11 misure cautelari agli arresti domiciliari per 5 cittadini italiani e 6 albanesi per reati a vario titolo contestati di produzione, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e ricettazione di armi. Le indagini coordinate dalla DDA di Bari hanno accertato che dopo gli arresti degli ultimi anni che hanno colpito il traffico di droga tra le due sponde dell'Adriatico, i gruppi criminali avrebbero spostato la produzione di stupefacenti dall'Albania alle province di Bari e Foggia. Sequestrate due piantagioni coltivate in serre composte da oltre 8.000 piante di marijuana per un peso di oltre una tonnellata e mezza, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 10.000 dosi di stupefacenti da immettere sul mercato illecito. Le indagini si sono sviluppate tra ottobre del 2018 e lo stesso mese del 2019 sull'asse Cerignola, Bisceglie, Bari e Oria e hanno documentato l'approvvigionamento nel Foggiano e nel Brindisino, il trasporto via terra da Corrieri Albanesi, la custodia in un immobile di Conversano e hanno individuato i destinatari anche in Basilicata e Sicilia. Gli arresti sono stati eseguiti in Puglia e in Lombardia. In 32 capi di imputazione sono stati ricostruiti decine di episodi di cessioni di droga per complessivi 140 chili di hashish, mezzo chilo di cocaina pura, 113 chili di marijuana, oltre alla detenzione e ricettazione di due pistole calibro 9 sottoposte a sequestro. Con matricola a Brasa, l'operazione Zemra costituisce un'appendice del più ampio progetto dell'antimafia barese per il contrasto internazionale al traffico di droga dall'Albania alla Puglia.